Chi è Federica Nardone? Bella domanda, è una persona che pensa di conoscersi ma scrivendo scopre altre Federiche. Come mai Federica Nardone sceglie di partire da Venezia, arrivare in Basilicata, a Policoro, a Vox Libri per presentare il suo libro? Perché amo l'avventura e soprattutto perché mi piacciono i team che divulgano cultura e che credono negli scrittori emergenti e che dedicano spazio, un bellissimo spazio divertendosi alla cultura e allo scrivere e a leggere. Come nasce Binario 6? Ce ne puoi parlare un po'? Binario 6 nasce da chiacchiere tra amiche e da tante domande che ci facciamo proprio sull'amore e soprattutto nasce dalla volontà di far incontrare due mondi completamente opposti, Marte e Venere, uomo e donna. Ci puoi dire qualcosa in più in merito al tuo libro? Due amanti, due telefoni e un amore. Va a finire bene? Chi lo sa!